I commentatori statunitensi sono rimasti senza parole mentre schernivano crudelmente una parata di Natale a cui Meghan Markle e il principe Harry hanno gentilmente donato. Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto una donazione alla prima parata annuale di auto per le vacanze di Montesito nel loro nuovo quartiere. La podcaster americana Roberta Fiorito e la collega Rashad Bowie. Sono rimaste senza parole a guardare le foto della sfilata di auto, notando che era borderline trash mentre elogiava i costumi sfilati all'evento. Oltre alla sfilata, il duca e la duchessa del Sussex hanno effettuato donazioni a diversi enti di beneficenza durante le vacanze.Il presentatore di Royal Obsessed ha dichiarato, Harry e Meghan hanno donato alla loro prima parata annuale di auto per le vacanze di Montesito. Questo è super casuale e ci stiamo grattando la testa per quello che è appena successo. Ovviamente, sono stati i primi a decorarlo. Per donare, sono stati i primi a donare. È stato chiesto loro prima, dovremmo fare una parata di auto? Come è successo? La signora Bowie ha risposto, in loro difesa, sembra che stessero solo cercando di trovare un modo all'aperto per trovare allegria in città. E probabilmente volevano partecipare come nuovi vicini della zona. Punto quindi è stato bello, penso solo che alcune delle foto di alcune delle foto dei partecipanti fossero piccole ma sembravano festose e divertenti. La signora Fiorito ha scherzato, è come il Natale di Real Housewives, è al limite trash, solo per dire. Alcune persone hanno un'idea diversa di cosa sia il Natale, ma va bene, è molto divertente. Ho setacciato le immagini come se ci fossero scorci di loro anche nelle maschere o negli occhiali da sole da qualche parte lì dentro. Non pensare che fossero lì a meno che non fossero all'interno del macchina. La sfilata ha visto le auto decorate con ghirlande, ghirlande, giocattoli, slitte, la cassetta delle lettere di Babbo Natale, animali domestici, orpelli e musica natalizia. Jack Overall, travestito da Babbo Natale e a bordo di un'antica autopompa di Newquist, ha distribuito caramelle da un camion. Grazie a tutti.